Buongiorno a tutti, dopo aver aggiunto un servazionamento ad un progetto Sisma Studio ed aver creato un asse, iniziamo subito ad eseguire qualche movimento in simulazione. Partiamo quindi dal progetto che avevamo lasciato nel video scorso, apriamo la sezione Section 0 e aggiungiamo 4 rang. Aggiungiamo i primi 4 comandi per poter muovere un asse. Andiamo quindi a destra, dove abbiamo tutto l'elenco di tutte le funzioni possibili e ci dedicheremo alla sezione Motion Control. Quindi apriamo la funzione Motion Control e troviamo tutte le funzioni che ci serviranno in questi video. Ovviamente, come potete notare, sono tutte funzioni che iniziano con MC e quindi questo facilita il riconoscere di che tipo di funzioni ci servono. La prima funzione che andiamo ad utilizzare è la funzione MC Power che troviamo qua e con drag and drop, come tutte le altre funzioni di Sisma Studio, andiamo ad inserirla. Iniziamo a impostare la parte minima principale per poterla utilizzare, quindi la prima parte definiamo a che asse questa funzione verrà associata. L'asse lo identificheremo con il nome che abbiamo assegnato in precedenza, quindi asse 0. Andiamo a scrivere, ci verrà consigliato asse 0, doppio clic e invio e poi verrà associato. Diamo un nome all'istanza, la chiamiamo ad esempio Power Asse 0, invio e abbiamo dato un nome all'istanza. Mi raccomando, quando poi andremo ad utilizzare queste funzioni su più assi, ovviamente mi raccomando date nomi di istanze sempre diversi per evitare problemi di utilizzo. Ovviamente l'altra cosa che manca è un contatto per poter comandare l'asse, quindi assegniamo ad esempio Power B. Come potete vedere, quando ho iniziato a scrivere Power, tra le variabili che lui consigliava, consigliava anche, perché avrei iniziato comunque con Power, anche la variabile Power Asse 0. Ovviamente questa non è da utilizzare, anche perché ha un datatype completamente diverso. La seconda funzione che andremo ad utilizzare, oltre al Power, è il Reset degli errori. E quindi troviamo qua sulla destra, mcReset. Eseguiamo le stesse impostazioni di prima, quindi Reset Asse 0 come valore dell'istanza e Asse 0 come asse da utilizzare. Ovviamente aggiungiamo anche qua un contatto e lo chiamiamo Reset Bit. Notate che queste due funzioni hanno, nella variabile per abilitarla, due nomi diversi. Una, il Power, si chiama Enable, la seconda, Reset, viene chiamato Execute. Enable significa che il bit di accensione, di abilitazione, ha un significato sia sul fronte di salita che sul fronte di discesa, quindi quando Power Bit passerà da 0 a 1 l'asse andrà in coppia, quando passerà da 1 a 0 l'asse verrà tolta la coppia. Quando invece abbiamo le funzioni con l'ingresso che è chiamato Execute, in questo caso viene utilizzato solamente la parte di fronte di salita. E quindi per il fronte di discesa non ha più nessun significato. Quindi per sicurezza impostiamo il fronte di salita sull'ingresso. E qua abbiamo impostato l'mcReset. Terzo comando, primo comando di movimento. Comando di jog, quindi viene comandata comunque in posizione, ma viene comandato l'asse ad una posizione infinita, quindi a velocità costante. Utilizziamo, ce ne sono più di uno, quello che più ci è comodo è mcmoveVelocity. Lo impostiamo, anche qua impostiamo sempre l'istanza, quindi movevelasse0. sempre l'asse 0 all'interno dell'asse, il contatto movevelbit. Come nel caso del reset, avendo un execute anche qua, impostiamo il fronte di salita. Su questo parametro abbiamo un po' di impostazioni di variabili in ingresso. Ad esempio la velocità, la chiamiamo vel. L'accelerazione, la chiamiamo h. Per semplicità, soprattutto in questo primo esercizio, non abbiamo la necessità di avere un valore diverso tra accelerazione e decelerazione, e quindi anche la decelerazione la definiamo con lo stesso parametro. Il jerk non è necessario impostarlo all'inizio. La direzione invece sì, perché ovviamente essendo un jog, la velocità è un parametro che ha senso solo in positivo, e quindi la direzione abbiamo la necessità di impostarla. E quindi la chiamiamo ad esempio dir. Gli altri parametri per il momento non sono necessari. Che valore do a questi parametri? Li posso cambiare ovviamente mentre eseguo il programma, ma diamo un valore di default. Ci sono vari modi per dare il valore di default. Si potrebbe ad esempio assegnare in questo parametro come initial value. È preferibile però assegnare il valore di default all'interno del programma, perché è più facile da modificare, e poi vedrete che ci sono anche dei vantaggi. Abbiamo fatto il programma in ladder, ma per l'assegnazione dei valori è più comodo utilizzare il testo strutturato. Sisma Studio ci mette a disposizione la possibilità di avere una finestra di testo strutturato all'interno del ladder. Quindi su una nuova rang aggiungiamo un inline ST. Se fosse lasciata così, questi comandi verrebbero eseguiti ad ogni ciclo. È un'assegnazione iniziale, quindi non vogliamo che vengano eseguiti ad ogni ciclo. Quindi nella rang all'inizio aggiungiamo dei contatti per poterli assegnare solo una volta. Quindi un primo contatto. Vogliamo che venga associato all'accensione, quindi impostiamo P first run, quindi all'accensione. E poi, vantaggio dell'utilizzare questo sistema, aggiungiamo un secondo contatto a cui lo chiamiamo default. In modo che durante l'esecuzione del programma, dopo aver modificato eventualmente determinati valori, possiamo ritornare all'impostazione di default senza dover far ripartire il programma. Per sicurezza, essendo un comando che viene eseguito un solo ciclo, anche in questo caso impostiamo il fronte di salita. Ovviamente non è necessario impostarlo su P first run, perché è già una funzione che viene eseguita una volta sola. A questo punto impostiamo i nostri vari parametri con dei valori di default, quindi vel due punti uguali ad esempio 100. I valori che stiamo utilizzando in questo esercizio, in questo video, non hanno un valore specifico in termini di unità. Infatti non abbiamo ancora impostato di unità, non stiamo parlando di unità fisiche, ingegneristiche, di millimetri, di gradi, ma stiamo parlando solamente di numeri. Vedremo in un futuro come poi associare questi numeri a qualcosa di reale. Quindi 100 è un numero, 100 unità. Diamo un valore all'accelerazione. All'accelerazione ovviamente il valore sarà poi relativo dalla macchina, è l'accelerazione che quella specifica, meccanica, è in grado di sopportare. Se però non sappiamo, perché non abbiamo ancora fatto i calcoli, con che accelerazione partire, un ottimo valore di accelerazione da cui partire è quello di impostare a 10 volte la velocità. Perché 10 volte la velocità? In questo caso vuol dire che, essendo la velocità in unità al secondo, l'accelerazione in unità al secondo quadro, impostare un'accelerazione 10 volte la velocità indica che verrà raggiunta la velocità in 100 millisecondi. 100 millisecondi è un termico per le accelerazioni assolutamente ragionevoli in una macchina di automazione. Ovvio che è un valore di partenza, non tutte le macchine hanno senso di lavorare con un'accelerazione 10 volte, alcune di più, alcune di meno, ma dall'esperienza è un valore medio che possa essere utilizzato. Il valore invece di direzione viene impostato con un enumerativo, un enumerativo che è già inserito come valore di base all'interno del sistema. Gli enumerativi già inseriti all'interno del sistema iniziano con underscore mc e in questo caso è positive direction. Ovviamente se si vuole farlo andare in negativo sarà underscore mc negative direction. Gli enumerativi sono molto utili, utilizzati pesantemente nella parte motion per evitare di impostare dei valori 0 o 1 che poi sono difficili da leggere. Dopo aver impostato il power per metterlo in coppia, il reset per resettare eventuali errori e la move velocity per muoverlo, essendo un comando di gioco, quindi un comando senza una fine, è necessario impostare un comando per fermare. Il comando per fermare è appunto l'mc stop. L'mc stop è fondamentale e necessario perché essendo la maggior parte di tutti i movimenti con l'execute come partenza, nessuno di questi ha la fermata all'interno del movimento. E quindi per fermare il movimento è necessario un comando di stop. Di movimenti uno ne metterà tanti, di stop ne basta uno solo, eventualmente associarlo a più ingressi. Come tutti gli altri comandi, associamo un valore dell'istanza, quindi stop asse zero. Andiamo sull'asse, quindi... Andiamo a impostare l'asse come in tutti gli altri e abbiamo asse zero, invio. Tra i parametri impostiamo la decelerazione, visto che abbiamo già impostato l'accelerazione in precedenza, utilizziamo lo stesso parametro, non c'è motivo per mettere un valore diverso in questa situazione. Potremmo farlo in futuro, ad esempio, se dobbiamo impostare delle frenate di emergenza in cui metteremo un'accelerazione più alta solo in determinati casi. E poi ovviamente un comando per poterlo fermare, quindi stop bit. Anche in questo caso mettiamo il fronte di salita. A questo punto abbiamo il progetto, verifichiamo la correttezza dei programmi, zero errori, va tutto bene. Ricompiliamo. Yes. Il progetto viene compilato, quindi va tutto bene. A questo punto dopo averlo compilato andiamo in simulazione e facciamo partire la simulazione del progetto. La simulazione è partita. Notate che avete questo grigio vuol dire che siete online. In questo caso non siamo online con nessun motore e quindi iniziamo ad utilizzarlo. Doppio clic su power bit e mettiamola a true vedete che l'azionamento va in power senza alcun errore. Lo facciamo partire mandando a true il contatto move al bit vedete il function block che va a true vuol dire che ha raggiunto la velocità. Se a questo punto possiamo tranquillamente togliere il true il true a move al bit e se vogliamo fermarlo lo fermiamo mandando a true stop bit e quindi viene tolta l'invelocity e quindi la colorazione verde al function block mc move velocity. Se volessimo sapere come si sta muovendo possiamo utilizzare il monitoraggio della posizione e della velocità dell'asse. quindi abilitiamo la finestra la finestra di watch ed utilizziamo una variabile che si chiama come il nome dell'asse quando noi creiamo asse viene anche creata una variabile di monitoraggio oggi vedremo le parti principali in un video successivo le andremo ad analizzare nello specifico quindi andremo nella variabile asse 0 è una struttura di data type underscore s axis ref all'interno della struttura andiamo a recuperare la parte cmd quindi dati comandati non servono gli attuali perché essendo un asse virtuale l'attuale praticamente non esiste notiamo che abbiamo il valore di posizione e di velocità che sono quelli che ci interessano ci interessano di più la posizione visto che l'abbiamo mossa in precedenza è diversa da 0 si è fermato a 1978 facciamolo ripartire noterete che la posizione sta incrementando è una velocità che è del tutto simile a 100 come abbiamo impostato ovviamente questi valori possono essere modificati ad esempio al posto di 100 scrivere 200 e per poterlo aggiornare bisogna ritornare a false con il contatto move al beat rimettere il contatto a true e come potete vedere qua sotto la velocità passa da 100 a 200 se lo volessimo fermare come abbiamo fatto prima mettiamo a true il contatto stop beat e in questo caso come notate la velocità va a 0 e la posizione si ferma ci fermiamo qua con il video di oggi ci vediamo al prossimo video con altri comandi di movimento